Dopo il forzato turno di riposo causa rinvio della partita con Macerata, il Valle Soverato si appresta a rituffarsi nel campionato di A2, sesta giornata di ritorno, si affronta in trasferta il Marignano, una sfida importante anche in ottica classifica, visto che le due squadre sono rispettivamente il Soverato terzo e il Marignano quarto, attualmente divisi da tre punti, quindi una sfida molto stimolante anche sotto questo aspetto. Sì, tre punti con una partita in meno però, questo è importante precisarlo se proprio volessimo andare a guardare la classifica. È una partita difficile perché comunque storicamente Marignano è un campo ostico, anche se si giocherà a porte chiusa, comunque è un campo molto difficile, difficile per la qualità della squadra, vengono da due buone vittorie in casa con Martignacco e Montecchio, anche abbastanza convincenti, per cui ci sono tutti gli ingredienti per una partita non semplice. Noi veniamo dal turno di sosta, diciamo, forzato, che da un certo punto di vista ci ha, insomma, abbastanza favorito perché dopo il tour de forza avevamo bisogno di ricaricare un po' le pile, ci ha permesso questo di ricaricare un po' le batterie con il nostro preparatore atletico Andrea Rotella. Dall'altro però sai, quando c'è un trend positivo, poi ricominciare, insomma, ti lascia sempre qualche dubbio, anche se devo dire che la squadra queste due settimane si è allenata veramente molto molto bene. Allora, proprio alla luce del riposo forzato, chiediamo lo stato psicofisico di questa squadra, che sappiamo nell'ultimo turno disputato prima della sosta forzata aveva avuto qualche acciacco di troppo nell'ultima partita vinta in casa, quindi sicuramente in questi 15 giorni ci sarà stato anche lavoro per lo staff dei fisioterapisti, per, diciamo così, ricaricare le batterie, risistemare, oleare i meccanismi. Ma sì, come ho detto prima, guarda, diciamo che prima della sosta con Macerata è stato un periodo abbastanza intenso, abbiamo avuto il problema con Chiari Barbelli che fortunatamente è rientrato, però devo dire che ho la fortuna di lavorare con uno staff importante e competente, a cominciare da Pietro Damiani, ma lo stesso Davide Andriotti, il nostro fisioterapista, Luigi Criscuolo, il nostro osteopeta, per cui ho sempre la fortuna poi di avere tutto ciò che mi serve per recuperare quelle che sono le situazioni grazie al lavoro di queste persone, per cui sono abbastanza soddisfatto, abbiamo recuperato Chiari Barbelli e questo è molto importante nell'economia in generale del campionato, ma anche per quella che è la partita che andiamo a affrontare domenica, dove comunque Federica Piacentini l'ha sostituita veramente molto 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 bene, però sai, in queste cose è sempre meglio avere il dubbio sull'abbondanza che non su una giocatrice che magari per qualche problema non può essere a disposizione. Infine, alla luce anche dei risultati maturati in queste due settimane, dove il Soverato praticamente è stato da spettatore, ricordiamo che c'erano altre squadre che dovevano recuperare anche delle partite, c'è stato uno stravolgimento del calendario, il quinto turno è slittato a gennaio, quindi sicuramente anche questo incide su un anno già di per sé particolare. Ma sì, questo lo sapevamo già all'inizio della stagione, che l'elemento Covid poteva rappresentare un'incognita, laddove già comunque il campionato è un campionato di suo molto difficile, lungo, dispendioso, con tanti spostamenti da fare. È chiaro che il Covid, la situazione epidemica, ha creato ulteriori elementi di difficoltà, ho elogiato le mie ragazze perché sono state secondo me molto molto brave ad adattarsi, soprattutto in una situazione non facile a livello logistico, sugli spostamenti, ragazze che comunque sono lontane da casa, per cui questo, sai, alla fine influisce anche su quello che è il rendimento, o comunque lo stare poi in campo a partire dagli allenamenti. Abbiamo la fortuna, questo è fuori dubbio, di avere il palazzetto a disposizione, ringrazio il Comune per questo, insomma, mi sembra il minimo che io possa fare, perché sono le condizioni veramente migliori in una situazione di disagio che abbiamo per poterci, per poter generare, e questo secondo me in qualche misura ha inciso nelle ultime prestazioni, laddove oltre al risultato secondo me abbiamo giocato anche abbastanza bene, ed è quello che vogliamo continuare a fare partendo proprio dagli allenamenti per quelle che serve, insomma, nel miglioramento delle prestazioni.